Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. Gli atti di inciviltà continuano ad affliggere la città di Avellino. Già dilaniato da tante discariche a cielo aperto, sparse un po' ovunque nelle zone del nostro sito, lungo contrada Valle Santa Caterina, la strada a scorrimento veloce che porta la frazione Picarelli, spuntano diverse quantità di rifiuti scaricati lungo i margini della carreggiata. Il materiale inquinante è di diversa tipologia, si notano bottiglie vuote di plastica e di vetro, sacchetti della spazzatura e altri oggetti lasciati a vegetare per strada nelle zone verdi. Tutto questo nei pressi di abitazioni e del centro sportivo Country Sport. Nonostante appelli e segnalazioni, avere un po' di rispetto per l'ambiente sembra essere complicato come una delle dodici fatiche di Ercole. Perciò ci auguriamo che vengano intensificati i controlli per punire chiunque si faccia protagonista di questi gesti vergognosi.